Ci occupiamo dello studio di Omero, da tutti considerato il poeta delle origini. Vediamo subito la famosa opera copia romana del secondo secolo dopo Cristo, nota come Omero Caetani, che ci permette di avere un'idea della fisionomia di questo grandissimo autore del passato, su cui ancora sono vivi e intensi gli studi. Sappiamo infatti poco di questo autore a partire dalla vita. Ci chiediamo infatti chi è Omero e per rispondere dobbiamo prendere in considerazione, come abbiamo visto anche per altri autori, due domande fondamentali, cioè dove è nato e quando è nato e quando è vissuto. Dove è nato e vissuto? Per rispondere a questa domanda dobbiamo far riferimento alla tradizione. La tradizione ci ha consegnato una biografia leggendaria, cioè ci ha consegnato notizie non accertate e documentate storicamente. Vediamo le fondamentali ipotesi sul luogo di nascita di Omero. Secondo alcuni è originario della Ionia, l'oderna Turchia, nella parte affacciata sull'Egeo. Si attribuiscono i natali città come Smirne, Chio o Colfone. Secondo altri invece Omero era nato in Grecia, forse a Pilo, Argo o Atene, era figlio di una ninfa oppure discendeva addirittura da Orfeo, il mitico cantore che ammagliava con il suo canto e la sua cetra addirittura le belve facendole diventare mansuete e faceva anche commuovere i sassi. Era per tutti un cantore cieco, non dotato quindi della vista fisica ma di una vista spirituale che andava al di là dell'aspetto materiale della realtà ed era un cantore che errava, cioè era nomade, si muoveva, si spostava da una città all'altra. Secondo un'altra tradizione, un'altra spiegazione della vita di questo autore, partendo dall'etimologia del nome che fa riferimento appunto a un ostaggio, potrebbe essere anche un ostaggio di guerra oppure di altre vicende. Per quanto riguarda il tempo, la vita di Omero, la nascita e quindi la vita di questo grande autore si colloca o al tempo della guerra di Troia oppure dopo la guerra di Troia, subito dopo oppure anche tanti secoli dopo. Per Erodoto, uno storico nato tra il 490 e il 480 avanti Cristo, Omero era più vecchio di lui di 400 anni, quindi si colloca nel nono secolo avanti Cristo. Altra ipotesi da cui poi deriva la questione su cui concentriamo adesso il nostro studio è che Omero è un semplice nome, non fa riferimento a nessuna persona concreta. Questa ipotesi ha dato vita alla cosiddetta questione omerica. Allora, che cosa si intende per questione omerica? È uno studio che prende in esame questa possibilità della non esistenza reale di Omero e appunto dell'uso di questo termine per indicare o la poesia in sé oppure una figura che rappresenta un po' l'unione di diversi autori che hanno dato vita appunto ai due poemi fondamentali della civiltà occidentale, cioè l'Iliade e l'Odissea. Vediamo adesso di studiare la questione omerica a partire dall'antichità. Qui troviamo i grammatici della biblioteca di Alessandra d'Egitto che sono i primi a redigere una edizione critica, cioè una edizione frutto del confronto di numerosi manoscritti per trovare la vera versione dell'opera. Questi grammatici ritengono di poter dividere in 24 libri ciascuno dei poemi di Omero e ogni libro era indicato dalle lettere dell'alfabeto greco. Si pongono però subito all'occhio i problemi che riguardano le differenze sensibili tra i due poemi relativi alla lingua, allo stile, ma anche ai contenuti. Ci sono delle contraddizioni, delle incongruenze che portano appunto alla formazione di due posizioni. Da una parte i separatisti come Xenone o Ellanico che affermano che Omero ha scritto solo l'Iliade e l'Odissea e è stata scritta poi da un altro autore. Invece gli unitari come Aristarco di Samotracia oppure un autore di cui non conosciamo il nome che ha scritto il famoso e ancora oggi utilizzato, trattato, intitolato Del Sublime, che appunto ritengono che Omero ha scritto entrambi i poemi. Nel Medioevo, quindi passiamo intorno alla 1000 d.C., si riteneva che Omero fosse realmente esiscritto e avesse scritto entrambi i poemi, anzi divenne l'autore più importante delle origini della letteratura occidentale. Poi, andando avanti con il tempo, arriviamo al XV secolo in cui l'uso del greco si afferma e consente agli studiosi di leggere i due poemi nella lingua originale e si arriva quindi a quel giudizio negativo che porta a considerare Omero troppo rozzo e primitivo. In età moderna, e precisamente fissiamo un anno 1660, Edelino Bignac, un abate, formula l'ipotesi secondo cui i poemi che vengono attribuiti a Omero non sono altro che l'unione di diversi poemetti diffusi tra il popolo. Quindi Omero non è mai esistito, è solo un nome fittizio per indicare chi ha messo insieme tutti questi poemetti. Gian Battista Vic, un autore italiano, riprende un po' la stessa visione delle cose e infatti afferma che i poemi omerici sono la creazione del popolo, sono frutto della trasmissione orale di generazioni di cantori e che Omero non è mai esistito. Ecco, lo hanno inventato questo nome, questa figura, i greci, per personificare la poesia, la poesia di questa età mitica degli eroi. Arriviamo poi a Wolf che afferma che i due poemi omerici non sono altro che l'esito finale dell'assemblaggio di canti, di poeti che sono chiamati appunto Aedi, che li hanno composti nel X secolo a.C., sono stati tramandati oralmente e poi sono stati scritti nell'Atene del VI secolo su incarico del tiranno pisistrato. Nell'Ottocento viene ripresa la posizione dei grammatici di Alessandria, cioè delle origini. Vi ricordate che c'erano i separatisti e gli unitari. Adesso i separatisti prendono il nome di analisti che vanno a cercare tutti i vari poemetti da cui sono formati le due opere e ancora si soffermano sulle contraddizioni, la lingua, lo stile. E poi quelli che una volta erano gli unitari adesso sono detti neo-unitari. Questi invece vanno a cercare un unico progetto, quindi una persona che abbia un po' coordinato la creazione di questi poemi. Però oggi si va verso un riavvicinamento, infatti qui abbiamo le due posizioni. Gli analisti cominciano a ipotizzare che forse è davvero necessario ipotizzare l'esistenza di un poeta che ha riunito i canti. Allo stesso modo i neo-unitari ammettono la possibilità di una composizione a più mani. Arriviamo poi nel novecento con gli studi di Milman Perry. Questo è importantissimo perché Perry arriva attraverso un'esperienza personale a formulare una ipotesi suggestiva e aprire nuove prospettive di studio. Che cosa succede a Milman Perry, studioso della California, che ascolta il racconto epico della battaglia del Kosovo da cantori che conoscevano questo testo a memoria ma che erano inalfabeti, cioè non sapevano scrivere. E allora pensa che sia accaduto la stessa cosa con i poemi dell'Ilia dell'Odissea. Cioè sono stati narrati oralmente da cantori che appunto l'avevano imparato a memoria e la prova di questo è la presenza dello stile formulare. È stato poi un aedo, c'è stato poi qualcuno che ha elaborato il progetto delle due opere a partire da tutti questi canti di aedi. Ecco la sintesi di tutto questo studio è stata effettuata da questo Richard Gianco che ha così tirato le fila di tutta questa ricerca affermando che i poemi omerici sono testi orali che sono stati dettati e trascritti a un certo punto della loro esistenza. Come è arrivato a formulare questa tesi? prendendo in considerazione il caso dei cantori serbi, i Guslar che ancora oggi a memoria pur non sapendone leggere né scrivere cantano questi poemi. Un caso vivente è appunto questo Advo Mededovic che appunto ha dettato a uno scriba, come probabilmente è accaduto nella antichità, il suo poema. Quindi la tesi odierna è questa. C'è stato un aedo che ha dettato a uno scriba nell'VIII secolo, prima l'Ileade e poi l'Odissea. Ecco questa è la figura di questo cantore serbo che potrebbe essere il modello degli aedi della Grecia. Ecco chi è l'Aedo? L'Aedo è appunto un cantore, un poeta cantore che con la cetra narra, inventa i miti. Che cosa? I miti, le vicende degli eroi, degli dèi e li narra alla corte del re nella grande sala detta Megaron. Quindi importantissima la memoria ma non solo, anche gli strumenti tecnici, quelli che sono le scene già pronte che poi vengono appunto messi insieme come il fatto di indossare le armi, di combattere, di mandare un'ambasceria, di fare i giochi funebri, ma anche le formule. Come abbiamo già visto nell'opera di Gilgamesh, esistono delle espressioni formulari fisse, dei versi che vengono ripetuti con questa iterazione e che ci permette appunto di conservare nella memoria le vicende. Sono però possibili delle variazioni e proprio per questo il canto è sempre nuovo. Qui abbiamo la linea del tempo che poi vedremo in dettaglio, quindi a partire dal XXI secolo con gli Achei vicenei per arrivare al VI secolo. Quindi abbiamo gli Achei in Grecia con le prime città-stato, la conquista prima dell'isola di Creta, poi la guerra di Troia, poi l'invasione dei Dori, l'inizio del Medioevo ellenico, circa verso il 1200-1000, scompare la scrittura e invece viene introdotto il ferro, si fondano le prime colonie in Asia Minore, poi nell'Italia e quindi la Magna Grecia. La scrittura che era stata persa viene recuperata però in un'altra forma, è l'alfabeto preso anche dai Fenici. Infine nel VI secolo Pisistrato ad Atene fa scrivere i poemi omerici. Per quanto riguarda la scrittura, noi vediamo che in Grecia all'inizio, nell'età micenea, quindi XXI secolo, abbiamo la lineare B, però per esigenze economiche, quindi probabilmente, anzi sicuramente i poemi erano tramandati oralmente. Nell'VIII secolo viene introdotto l'alfabeto Fenicio Cananeo e infine per quanto riguarda questo passaggio dalla oralità alla scrittura, possiamo pensare che nell'VIII secolo c'è stata la dettatura di una edoda a uno scriva e nel VI secolo invece questi rapsodi, cioè dei professionisti, cominciavano a imparare a memoria a recitare queste opere che venivano scritte. Qui abbiamo l'immagine della Porta dei Leoni, simbolo dei Micenei e della Grecia antica. Per quanto riguarda la lingua dei poemi è una lingua artificiale, non scritta, che testimonia appunto questo passaggio attraverso varie epoche della storia, ma anche vari luoghi geografici. Quindi è un impasto linguistico, che comprende i vari dialetti ionico, eolico, miceneo. Qui vediamo le due figure di cui abbiamo parlato. La Edo, caratterizzato dalla cetra, che inventa, conosce tutto a memoria, canta. Il rapsodo, caratterizzato dal bastone, che recita e mette insieme i canti che lui non inventa, ma che ha inventato invece la Edo. Possiamo considerare le due opere anche una fonte storica, perché ci parlano un po' di usi e costumi dei Micenei. La cosa importante però è che lo fanno con gli occhi di personaggi che vivono in un presente che ormai è lontano dal passato che raccontano. Infatti questi Micenei, che sono scesi dal nord, che si sono insediati nel Peloponneso, dove hanno fondato le loro città più importanti come Micenei, Argo e Pilo, hanno conquistato, come abbiamo detto, prima Creta, poi hanno combattuto per la conquista dell'Anatolia, quindi della Turchia, la guerra di Troia, sono stati poi sconfitti e distrutti, la loro cultura è andata persa, con l'invasione dei Dori nel 1200, in cui è iniziato il cosiddetto Medioevo, quindi secoli bui, con l'introduzione del ferro al posto del bronzo, l'avvento dell'aristocrazia al potere, ma anche la scomparsa della scrittura e una semplificazione della decorazione della ceramica. Per quanto riguarda il confronto, vediamo tra Micenei e Dori, la lingua è sempre greca, hanno miti e dei comuni, ancora l'acropoli e sede del potere, c'è questa distinzione fondamentale tra la città alta, la città bassa e la campagna, e sono presenti però dei caratteri micenei, come le armi di bronzo, nelle due opere di Omero, per esempio lo scudo di Ajacio, l'elmo di Odisseo, lo scettro, il caro da guerra, che però sono usati dai Dori con funzioni diverse. Quindi tutto questo testimonia che ci sono state diverse generazioni di cantori e quello che viene narrato è appunto un mondo lontano visto da una prospettiva più vicina, cioè che è quella del presente. Qui abbiamo Omero e poi diverse suggestioni che rimandano al poema. Gli esempi di quello che stiamo dicendo, il duello e il caro da guerra. Il caro da guerra non serve per combattere, ma accompagna soltanto il guerriero che poi scende e combatte a piedi. A volte combatte anche sul carro, però non è un carro che sfonda la linea dei nemici. Allo stesso modo lo scettro non è più solo nelle mani del re, ma durante l'assemblea viene preso da chi vuole parlare, quindi il sovrano è controllato dall'aristocrazia, è il primo tra i pari e anche per quanto riguarda il culto dei morti ci sono delle discrepanze, perché al periodo dei micenei i morti venivano seppelliti, mentre nelle opere di Omero si parla di cremazione. Ecco, quindi qual è la funzione dei poemi? Sono un'enciclopedia perché racchiudono tutte le conoscenze, la cultura, ma anche le norme di carattere etico della Grecia Antica, è un'opera educativa e anche di intrattenimento.